Il Conte Ter passa di nuovo da Matteo Renzi. Il leader di Italia Viva torna al centro della scena politica. I voti dei suoi parlamentari possono agevolare o meno la nascita di un terzo governo presieduto da Giuseppe Conte. Il PD lavora in questo senso. Il segretario Zingaretti sta chiedendo ai 5 Stelle di riaprire il dialogo con Renzi, anche perché un governo senza Italia Viva, ma con i responsabili centristi, appare sempre più irrealizzabile. Nonostante la nascita di un nuovo gruppo di dieci senatori, si chiama Europeisti Mai e Centro Democratico, i numeri per Conte non aumentano. Ecco perché il piano A prevede un ritorno in maggioranza di Renzi. Se dovesse fallire, si aprirebbero tanti scenari. Da un nuovo Premier 5 Stelle, e si parla di Di Maio e di Patuanelli o Fico, a un PD come Franceschini o Guerini. Lo Stato decide di puntare sul Reitera per sconfiggere definitivamente il coronavirus, investendo oltre 81 milioni di euro nel vaccino italiano. Mentre la campagna vaccinale ha le prese con i ritardi nelle consegne di Pfizer e Moderna, l'Italia investe sull'azienda che ha sede a Castel Romano, coadiuvata nella ricerca sul vaccino dall'Istituto Spallanzani. L'auspicio è che si possa arrivare all'approvazione dell'EMA entro l'estate, per rendere disponibili le dosi già da settembre. Sarà a quel punto che la campagna subirà l'accelerazione decisiva. Il vaccino Reitera avrà altri pregi, sarà monodose e non necessiterà per la conservazione di temperature sotto lo zero. Ricordare è un dovere di umanità e di civiltà. Sergio Mattarella celebra il Quirinale, il giorno della memoria, istituito con legge 20 anni fa per non dimenticare la tragedia dell'Olocausto. Il capo dello Stato ricorda che Auschwitz fu la costruzione più disumana mai concepita dall'uomo, una spaventosa fabbrica di morte, e ammonisce che le persecuzioni nazi fasciste non furono una parentesi della storia e l'odio genera sempre le sue conseguenze. Al Quirinale anche la testimonianza di Sami Modiano, sopravvissuto all'Olocausto, e di alcuni studenti con la ministra dell'istruzione, Azzolini. Pensare a un nuovo Bauhaus europeo per capire come vogliamo vivere insieme dopo la pandemia, mentre proteggiamo il nostro pianeta incrementando l'innovazione. È il progetto lanciato dalla Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, intervenuta con un videomessaggio alla festa dell'architetto. Ed è proprio l'architettura a giocare un ruolo determinante per immaginare un futuro più sostenibile e centrato sulle persone, ha spiegato von der Leyen. Il Presidente del Consiglio Nazionale degli Architetti, Giuseppe Capocchin, ha aperto la tre giorni dedicata alla professione parlando della scuola, tema principale della Kermes di quest'anno. Occorre aprire una riflessione sull'influenza che le scelte architettoniche hanno sulla didattica, oltre che sul benessere e sulla socializzazione, ha detto. Bisogna trasformare l'edilizia scolastica in architettura scolastica. Per tutte le notizie consultate il sito di re.it